Ciao ragazzi! Sono Rachel Grüninger, ho 30 anni, lavoro da 7 anni per autopostale e da un anno sono conducente. Durante il mio tempo libero mi piace fare passeggiate in montagna, fare sport in generale e giocare a tennis. Un altro mio hobby è postare video divertenti in dialetto ticinese su TikTok e Instagram. Ottenere la patente dell'autopostale per me è stata una grande sfida e la cosa che mi rende ancora più fiera è che sono la prima donna a guidare in balcolla. I passeggeri sono sempre molto felici di incontrarmi e anche io sono molto contenta di poter scambiare due chiacchiere con loro. La mia tratta preferita è quella di Lugano Carona perché c'è il tunnel molto stretto dove passiamo con l'autopostale. La cosa più dolce che mi succede è quando porto i bambini a scuola e si mettono in fila a turno per abbracciarmi prima di sedersi. Soprattutto al mattino presto e alla notte bisogna fare molta attenzione agli animali. Ci sono cervi, tassi, volpi, ranocchi, di tutto e di più. A tutti i miei colleghi di autopostale dico Sa vedum, mi exentus!